Speravamo che ci fosse un approccio un po' diverso rispetto a quello che il Presidente del Consiglio ha annunciato. Così si esprime sul nuovo DPCM del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Governatore del Veneto Luca Zaia, nello stesso giorno in cui presenta anche la nuova ordinanza regionale che consente ai Veneti qualche maggiore spiraglio di libertà. Ok a passeggiate, jogging e uscita all'aria aperta anche con bicicletta o altro mezzo, purché siano individuali e si svolgano all'interno del proprio comune utilizzando mascherina e guanti, questo dalle 18 di lunedì 27 aprile. Permesso anche lo spostamento all'interno della regione per raggiungere le seconde case che si trovano al di fuori del comune di residenza per attività di manutenzione e conservazione del bene. Tale disposizione entrerà in vigore dalle 6 del 28 aprile, come anche la vendita di cibo per asporto tramite veicolo senza uscita dei passeggeri. Nella nuova ordinanza della regione Veneto si stabilisce inoltre che negli ambienti di lavoro si applichi il protocollo firmato tra le parti sociali il 24 aprile. Infine è previsto l'obbligo per tutte le persone nelle attività economiche e sociali di distanziamento di un metro di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzanti delle mani. Tale ordinanza regionale rimarrà in vigore fino al 3 maggio, compreso in aggiunta alle precedenti. Ai cittadini dico che stiamo lavorando, tra governatori stiamo parlando di questo problema delle aperture, spero vivamente che il governo possa rivedere alcuni step che si è dato. Per quanto attiene ai numeri in provincia di Belluno, secondo l'odierno bollettino di Azienda Zero, 668 sono i casi attualmente positivi, 44 le persone ricoverate in area non critica e San Martino, 6 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità 50 sono le persone attualmente in cura per Covid-19, 1.302 sono le persone in isolamento domiciliare. Cresce il numero dei guariti che raggiunge ora quota 305, ma di contro anche quello dei decessi, in totale 67 dall'inizio dell'epidemia. E proprio su quest'ultimo fronte, l'Ulss Dolomiti ha segnalato che nella notte del 26 aprile altre due persone positive al Covid-19 hanno perso la vita. Si tratta di un 69enne e di un 72enne, quest'ultimo ricoverato in terapia intensiva Covid-19 di Belluno e non residente in Ulss Dolomiti.